Hi guys, hi guys, hi guys, se vi piacciono i camper, se vi piace la vita on the road, se vi piace l'America, ma soprattutto se vi sto simpatico, vi voglio invitare alla diretta che farò domani sera sul canale di Matteo Braglia, Sbragliando, sabato 30 gennaio alle ore 21 sul suo canale, metterò il link qui in descrizione, così potrete partecipare, parleremo e rideremo, soprattutto rideremo. Parleremo di America, Van Life americana, camper americani, come viaggiare in America, quindi se avete queste curiosità siete i benvenuti a fare domande e a partecipare alla live. Oggi sono in una location un po' sfortunata, sono nel magazzino dell'azienda per cui lavoro, è venerdì, mi sto preparando per il weekend, vi auguro un buon weekend a voi, so che siete ancora purtroppo chiusi in casa, quindi approfittatene domani sera per passare un'ora, un'ora e mezza tra amici. Da Houston è tutto, passo e chiudo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.